fanno carburante all'auto prendono un caffè al bar del distributore e visto che ne hanno l'opportunità rubano anche una borsa lasciata incustodita da una cliente del locale è andata più o meno così al distributore di metano a carrara di fanno che ha un piccolo bar ricevitoria annesso a farne le spese una 39enne fanese che si trovava all'interno del locale e che stava conversando con altri clienti del bar e che mai e poi mai avrebbe pensato che la sua borsa lasciata a mezzo metro di distanza fosse portata via lì sotto gli occhi di tanta gente ma così non è stato ad impossessarsi della borsa con soldi occhiali e documenti è stata una coppia lui 34 anni di origini pugliesi già noto alle forze dell'ordine e lei 24enne del posto che materialmente porta via come si vede dalle immagini della telecamera la borsa della ignara signora e sono proprio le immagini della videosorveglianza a consentire agli agenti del commissariato di fanno coordinati dal dirigente stefano seretti a risalire i due perquisire così la loro abitazione dove ad incastrarli sono stati il ritrovamento dei documenti della 39enne e i suoi occhiali oltre ad alcune dosi di cocaina ed hashish per uso personale i due sono stati così denunciati a piede libero per furto aggravato e segnalati in prefettura per l'uso di stupefacenti ma i controlli sul territorio hanno consentito agli uomini delle volanti di fanno di arrestare nei giorni scorsi altri due soggetti che dovevano scontare pene detentive otto mesi ad un 39enne fanese per reati ambientali che sconterà nel carcere di villa fastigi e sette mesi sempre ad un fanese di 58 anni per reati legati agli stupefacenti che è stato posto agli arresti domiciliari